Scusa Amici, amici, udite, udite Alzate i calici For Lanzarote Beach For Lanzarote Beach Scusa Boravavavavavavvav Ba ja 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 Avello scoperto quanto è porco la madonna quando è porco Odio Lu 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 Non è così Azzitto! Aha ha 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 Azzitto! Ragulas Emi fai Azzitto cazzo Ba una Allora, vado prima a cagare e poi faccio la pastiglia. Nel preteppo ci scappa anche la lavata di mani? Tutti fatti per Mary. Prova anche tu, non vado. Tutti fatti per Mary? Tutti. Ma tu non c'è la letterina? Amorosa? Che lettera vuoi? Aspetta che ho sentito un rumore qua fuori. Che lettera vuoi? Che è la ruota? C'è la morosa qui. Hai sentito? Stai ricando. Che cosa stavi dicendo? No, che c'era la morosa. Aspetta, scusa un attimo, ma ho sentito la morosa fuori. Io non so, ogni volta che a volte sento nel cielo stronzata. Listen, it's rain, it's no or... It's rain, it's no? No, no. No, ma che... Ciao la facca. Fai pubblicità, fai pubblicità. Vino a blanco e vino a tinto. Alla Dorote Beach. Vieni qua. No, devi dire, al sapore d'Italia. Signorio de Paramon. Al sapore... Al sapore d'Italia, è stato tormentato. Sapore... Al sapore d'Italia. Al sapore d'Italia. La mancia. Provalo. La mancia. Vino... Dammi la mancia. Dammi la mancia. Sacca propina, joder. Sacca propina. Il botto. Vino causa questa cosa alla gente. Porché? 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 Porché no? Porché no? Porché no? Sto a piedi assi. Vieni, vai! Dice... Big Mike. Eh, big, big. Crazy Mike. Crazy? Yeah, you're speaking English. No, the fuck up, okay? Yeah, can you tell me? Mike. Viste sull'isla internazionale. Blambo de Toro, lo sa che. Francesca? No, andiamo a fare il video ad Ale. Vai fare il video ad Ale. Dove? Nel cesso, piccario. Andiamo, andiamo, ti seguo. Tu fai la telecronaca con i giornalisti. Aspetta, aspettami, aspettami. No, aspetta, comincia a fare la telecronaca. Questa succedendo? Stiamo entrando nel cesso dei... No, si è chiuso dentro. No, poi io sono utile a me. Anche amici. Che passa? Che pasa? Che sta facendo Maria? Che te passa? Vamos a la cusina del Sapore d'Italia. Che sta passando qui? Che haces qui tu? Nada. Come lavoras qui? No, non lavoras qui. Soccando. Ah, soccando sin seri. Seccando lo cenicero. Seccando lo cenicero. Aprende un poco. Aprende un poco. Aprende come se seca un cenicero. Aprende a limpiare. Credo che sono troppo borracho. Quindi no, meglio un giorno a prenderlo. Un giorno a prenderlo. Un giorno a prenderlo, sicuramente. Un giorno a prenderlo. È pericoloso il sabore di tale. Questo è un ristorante. Come è questo? Come è questo? È famigliare questo ristorante. È famigliare. È molto pericoloso perché è troppo vino. Io sento che c'è qualcosa di raro. Cos'è questo? Il cioccolino. È pericoloso. L'acqua sta nella pentola. Che passa? Vieni costa lì. Che cazzo. Michele. Facciamo il provino. Facciamo il provino per il grande fratello. Facciamo il provino per il grande fratello. Allora. 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 Senza il bicchiere. Senza il bicchiere. Spingilo un po' indietro. E'mpuca. Miguel. E' un po' indietro. E' un po' indietro. Bene. Perfetto. Come ti chiami? Sveglia, sveglia. Questo è provino. Come ti chiami? Giulio. Quanti anni hai? 22. Che lavoro fai? Spazzacamino. Ma come mai hai scelto questo lavoro? Di chiama il cuoco. Di chiama il cuoco. Le faremmo sapere. Per il grande fratello. No, no. Lo facciamo fatto bene noi. E come si può mandare la foto? Parla di nuovo. Come? Come la foto a migliare? Perché la chiediamo? Come si manda bene? Allora, stop, ciao!